Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, la notizia era nell'aria, il governo ha deciso di spostare la data del 20 gennaio dove avrebbe dovuto riunirsi la giunta per le immunità parlamentari per decidere se dare il via libera a mettere sotto processo Matteo Salvini oppure no. Sappiamo tutti che la ragione principale è che il governo ha una grandissima paura che questo voto avrebbe potuto influenzare e potrebbe influenzare le elezioni in Emilia-Romagna e quindi hanno cercato in ogni maniera di spostare questa data. Noi ormai avevamo deciso il 18 gennaio questa manifestazione da tenersi alle ore 11 davanti al Tribunale di Milano anche perché credo che sia facile intuizione che per organizzare una manifestazione ci vuole del tempo. Solo in questi giorni siamo stati in questura, al comando della Polizia Municipale di Milano, in comune, insomma per ottenere tutti i permessi per poter fare questa manifestazione. Permessi che abbiamo, quindi questo ve lo posso ufficializzare, abbiamo tutti i permessi per fare questa manifestazione che ripeto lascerà tranquillamente il tempo a coloro che lo vorranno di raggiungere Maranello perché da Milano a Maranello un'ora e mezza massimo due ore di macchina uno si trova nella cittadina emiliana e siccome la nostra manifestazione durerà un'ora e mezza circa voi capite che c'è tutto il tempo per raggiungere Maranello. Ora è ancora una volta da sottolineare il comportamento del governo che davvero ormai si trova in grande difficoltà, difficoltà che sono anche del Movimento 5 Stelle che tutti i giorni perde dei pezzi e io vi ho sempre detto, ho la convinzione che il governo rischierà di cadere e probabilmente cadrà soprattutto perché a un certo punto non ci saranno più i numeri al Senato. Questa è la situazione. Tra l'altro per quelli che continuano in qualche modo a fare obiezione per quanto riguarda questa nostra iniziativa devo anche dire che sono assolutamente due obiettivi differenti. Uno è appunto in sostegno di Matteo Salvini e vi assicuro che è una cosa che noi sentiamo anche se fossimo solamente in dieci noi andiamo davanti al tribunale per sostenere Matteo Salvini mentre la manifestazione di Maranello è una manifestazione intanto di tutto il centrodestra ed è una manifestazione a sostegno della candidata Lucia Borgonzoni. Quindi vedete due cose diverse, due obiettivi diversi e se riuscissimo nell'impresa, perché sarebbe un'impresa di portare 500.000 persone a Milano, voi capite che se sommiamo le due manifestazioni sarebbe solo un qualcosa in più per il centrodestra e per Matteo Salvini. Ora noi continuiamo comunque anche a lavorare sulla manifestazione che abbiamo in mente di organizzare in febbraio, nel mese di febbraio, dobbiamo ancora esattamente decidere la data, abbiamo detto inizialmente 9 febbraio, vedremo se sarà l'8 o 9 di febbraio, siamo in contatto con la politica, la politica credo che ormai sia un po' a conoscenza di questa nostra nuova idea, anche perché vedete continuiamo ad essere convinti che è necessario dare la possibilità a tutti di manifestare senza dover fare lunghi tragitti, siamo convinti che dobbiamo prendere un po' l'esempio anche da quello che sta succedendo in Francia, magari in maniera un po' diversa, perché purtroppo in questo momento giungono notizie di scontri piuttosto importanti e magari da questo punto di vista sono un po' meno d'accordo, però sicuramente il fatto che venga fatta, che si svolga in più città della Francia, questo è un esempio come in certe situazioni, in certi momenti della vita politica di un paese occorre richiamare più gente possibile nelle piazze e l'unica maniera per poterlo fare sono delle manifestazioni a carattere regionale. Guardate che non è poi casuale che la stessa strategia di Matteo Salvini sia quella di andare paese per paese, perché probabilmente se lui dovesse intervenire solo in alcuni centri dell'Emilia non avrebbe potuto raggruppare così tanta gente, invece lui vuole quasi arrivare con il suo messaggio porta per porta e in fondo la nostra strategia è la medesima, riuscire ad arrivare il messaggio a più persone possibili e dare a tutto il popolo del centrodestra la possibilità di scendere in piazza. Intanto però facciamo una cosa alla volta, una cosa alla volta vuol dire che quindi sabato 18 gennaio alle ore 11 saremo davanti al tribunale di Milano e per coloro che lo vorranno avranno tutto il tempo nel pomeriggio di essere presenti a Maranello. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì.